Nulla di fatto dal tavolo di raffreddamento di ieri in prefettura a Salerno, nessuna garanzia sul pagamento di tutti o parte di 5 stipendi arritrati. E dunque questa mattina di nuovo in protesta i dipendenti del Consorzio di Bonifica Integrale dell'Agro Nocerino Sarnese. Sul tetto dell'ente 5 di loro che hanno scelto la strada più aggressiva per contestare la disastrosa situazione economico-finanziaria del Consorzio. 38 milioni di euro accumulati in circa 20 anni di commissariamento, qui non sono riusciti ad opporre un piano di rientro i quattro presidenti che si sono alternati alla guida negli ultimi due anni dopo agognate elezioni. L'ultimo di esso, Vincenzo Orlando, si è dimesso due settimane fa insieme all'intero Consiglio di Amministrazione ed ora i sindacati ribadiscono la necessità di un immediato nuovo commissariamento. Siamo riusciti a sappare solamente la promessa dell'impegno a una nomina del commissario quando più presto è possibile. Nomina che comunque già da una settimana non arriva ancora. Stamattina i colleghi sono saliti sul tetto dell'ente perché comunque lamentano ancora la mancanza degli stipendi, gli arretrati. Arretrati ancora ovviamente anche a livello contrattuale che non arrivano, promesse non mantenute come al solito, la mancanza totale della regione. Una delle ultime dichiarazioni del presidente è stata quella che bisognava ridurre il personale e non di poco, si parlava di 70-80 unità da ridurre. Che però questa a sua volta è un'assurdità perché se licenziamo 70-80 operai mi devono spiegare gli interventi sul territorio come li facciamo. Il problema è solo che c'è il completo disinteresse da parte della politica. Quindi quando la politica si degna di prestarci un minimo di attenzione forse risolviamo qualcosa. Se no noi siamo destinati a morire praticamente giorno per giorno perché si parla dei debiti ma in realtà parlano anche che ci sono dei crediti ma nessuno fa niente per recuperarli. Io volevo solo aggiungere ai nostri colleghi del Consorzio di Bonifidi di venirci a sostenere per la lotta che interessa anche a loro. Non è che la lotta la fanno 50 su 150 operai, solo questo. Grazie a tutti.